Benvenuti in studio a Berlino, N3TV, abbiamo con noi ospite questa sera Sandy Sandova Il suo cucarista questo Tanto benvenuti, welcome Sandy è stato, l'avete già visto, probabilmente qualche video che abbiamo fatto vedere qua di infame E poi l'avete visto quando accompagnava Rosita Ziraldo qua, sempre infame Ma cosa sta succedendo a Sandy in questo momento? Lo chiediamo direttamente a lui Quindi cosa sta succedendo in musica in tua vita? Perché hai fatto molta musica, molti registri, molti concerti e ora qualcosa sta succedendo La tua musica è finalmente usata, non è? Sì, posso comprare il mio singolo di Down the Streets da iTunes O di Music Tunes, di Music Low, di Down the Streets e di una canzone Ok, allora Sandy adesso finalmente ha un singolo a fuori che si chiama Down on the Streets che ci suonerà anche dopo Che potrete anche comprare su iTunes, Music Low e altri post che vi intervallare su internet Qual è la storia di questa canzone, di questo singolo e qual è la tua band? Qual è la tua band? Qual è la tua band? Sì, tu sei solo con Cristian, che è la tua guitaristica? Sì, normalmente siamo 4 persone, ma oggi voglio giocare con Cristian perché è più facile da giocare a giocare Ok, ok Sandy normalmente ha una band di quattro elementi e stasera invece ci dirizzerà solamente con l'accompagnamento di Cristian E magari dopo lo dovremo conoscere meglio E qual è la tua band di cui si tratta la canzone con l'accompagnamento di quello che è più importante Qual è la tua band una band di singolo? E la band di singolo lo avreste anche in quel momento in generale? L'accompagnola... È certo Nelio Se l'accompagnola ne sono poi Do you have a label now or are you alone? First I'm not free from a contract with our music but we are still looking for a record company and I think soon we don't have the right date when it's going to be released I think maybe the best thing that we can do is to listen to some of your music if you want Yes, of course, we will be here Yeah, now we are listening to a couple of songs from Sandy that are with Christian Maybe we can watch a video from Gabriel Gordon in the meantime Of course, he's our brother He's our brother In the meantime we will watch a video of Gabriel Gordon with the song called Shabuti and then we will enjoy Sandy Sandoro live here in N3TV in Berlin